Immaginate cosa li aspetta. Max, ti interessa sentire i pareri del pubblico? Sì. Allora vado là. Andando in mezzo agli spanti, così, vado là. Pareri, impressioni su ciò che stiamo vedendo tutti. Sì, perché è importante, visto che i personaggi sono abituati al gruppo in standard. Tutto quello che non si dovrebbe fare durante un incontro di tennis. Ecco qua, lo sto facendo. Perfetto. Vengo in prima fila, perché quelli della prima fila sono quelli che... Allora, lei la vedo molto tecnico, un convinto tecnico... Come si chiama? Giorgio? Giorgio è il socio di Luciano Spalletti. Ecco, esatto. Allora, un convinto tecnico... Ah, è subito, a caldo, così, su pulla. Ma li vedo molto attivi.